PEGI 18 Abbiamo l'imbarazzo della scelta delle macchie Ragazzi a questo punto se mi volete venire a prendere Non so ancora sto entrando Però questa non c'è tutta la benzina Ma non c'è l'ottore fiume qua No vabbè ma vengo ne tre La prendiamo Ma non c'è tutta la scelta che facciamo il combo Eh io ce l'ho accetta che cazzo sparo Ragazzi sta passando ah qua sotto guarda sta facendo il giro dietro Non becco gli sparo Vai vai se si ferma Se si ferma ottimo entro e esco io gli in mazza Ottimo È arrivato lì alla base No no Io non lo sento ancora Ho fatto il giro sto andando via Qualche indicazione E torna la base dietro Dietro la base E' sotto il filetto E' andato via raga E' si metterà a cecchinare forse A est avete detto A ovest Sulla piazza salita Lo stai seguendo a vedere se si ferma Come aspetta Ovest mi apri Su per la salita Vedete Sì e verso over Ho aperto io Ok Vedete Chi è in guilli? Io ho in guilli Ok ok Vedete un poliziotto sono io Eh sei fermato Dove dove raga? Degli alberi a ovest Ok Ok Non posso raga Allora Mi dai niente Chi è il poliziotto? Io io Arrivano i gruchi Abbassati abbassati E chi vuoi mi dai il... Fermati o ti sparo? Sono... sono sdraiato Ok Io mi li sparerei guarda che è sdraiato eh Io sono sdraiato eh Sì 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 dimmi dov'è Mi devi aprire all'occhio Ehm dove sto guardando io? C'è ancora il fumo dove sta fermato C'è ancora il fumo dove sta fermato Oh la porta è chiusa raga La porta è chiusa Eh sto uscendo Stai guardando tu Ti stai guardando Un albero è il... Eh davanti Dall'altra parte dell'albero c'è il coso Il coso Sì vabbè ragazzi Capisci un cazzo In effetti non ho capito un cazzo Allora Su è a ovest È su dalla collina No è dietro l'albero No Sud ovest Dietro que... Quegli alberi Oh Polizio che non mi spara Vado vado dalla Gip Dì che l'ho preso in faccia Hai mazzato? De Vado vado bene Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Dai Ti sto coprendo Chi è che sicura la? Chi è che... Io sono da Gip Ok Io sono un prete eh Ok Sono sotto un pino Ok ti vedo Vedo il cadavere È qua è qua lo vedo Sto arrivato Porca troia ho bisogno C'è uno zombie che mi mangia Sono svenuto Sto crepando Ho preso il fulgone Sto andando li Orca troia Andate da chi? Da... Da chi? Dove lo scatate? No ho già ucciso Ok VLOAD Questo con l'accetta è uno di noi Ok Ho ucciso io Ho ucciso io Ucciso io Oh alla fine ragazzi Era quello vestito da polizia Mi hai fatto la BLOD no? No Ti ho fatto in amor Cioè lo tenevo sotto mira da un'ora Chedendo fossi kiwi Uh il telemetro Al coyote il trucco Dove hai messo il super ragazzi? Ce l'ho io Occhio che non è da solo Com'è il carello? Si No mi sa che è da solo Sono passato su su Eh c'è solo della roba di un giocatore Musa prendergli il best al coyote Ah ho capito che erano qui prima quei due Qui a Kelmar C'era un altro sicuro con lui Si è vestito con la faccia da vecchio eh Si Che scatto C'è un altro avete detto Si si c'è un altro sicuro è passato qui a Cam Sono svenuto Ma dove stai? Si è notato tutta la macchina E' sicurati che non sia in macchina con te? Mmm è probabile Come faccio? Prima persona enter Eh Nascondo il corpo di sto poliziotto Ma porco Il coyote Ma hai fatto cagadotto No Eh ragazzi Te lo avete ammazzato Mi lo avete ammazzato Ma aiuto l'ammazzo porco Risarpelli erali Chi non andiamo in It To stand 2 Vai a Evpero Spi Io Prego Andrew Giottisco c'è la città no no no, lo portavo al base usiamolo invece eh vabbè ma con cosa lo uso e con gli Enfield? ma la roba da mangiare sta spawnando da sola o cosa qua c'è? l'ho messa io, se la pesa giù ti devo svuotare ok è che sta trascinando sto cadavere eh io sono smanato ahahahah c'è un upload, un po' i killer entra qua chiudetevi dentro qualcuno deve dar fuori ho provato a nascondere il sub ragazzi c'era un carello comunque dovrebbe esserci un altro perché erano qui a creme erano due erano questi qua cosa c'era nel carello cosa? si chiwe taxi ragazzi chi è che va a fare la spesa di Zinfleta? un acetto, una mappa Beppe c'è spazio nella nello zaino ehm metti meno sette nella tenda verde chi è che sta mettendo roba nella tenda verde? io ti voglio subito scusa io metto un la porta raga la porta porca cronia tu chi dà la porta eh che cazzo fa quell'altro la sopra? la porta la possono aprire tutti? allora butto un fn fall nella tenda verde dopo ma la porta la possono aprire tutti o no? eh si eh finchè non la lockhi finchè non la lockhi si raga ma veramente stiamo chiusi qua dentro scusa un attimo fermo ok no l'ho lockato l'ho lockato si ragazzi adesso sbaglio un angolo e butto tutta la merda che non ci serve no fatemi uscire ma io voglio uscire aspetta aspetta ok fa il restart ragazzi eh ah restart? ma quando? eh adesso non potete via la roba da pavimento no non entro neanche ma dov'è che hai visto che restarte? io non ho detto nessun messaggio è venuto fuori di chiudere il garage no 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 quello è il messaggio automatico che dice che tutti i veicoli e tutte le strutture sono indistruttibili indistruttibili tranne quella del garage eh mi aprite la porta un attimo qui ah ve lo posso anche io e non ti è ucciso chilo? no no chi altro? chi c'è il fn fall che c'è un fn fall sai che c'è un fn fall ma che scrive? no porca p***a ragazzi qualcuno di voi è fuori? oh io no che cazzo io sono fuori eh io sono il prete ragazzo mi lingono mi potete sbagliare io sono poliziotto io ho la chile io sono la troia quello con la cetta chi è? io la troia io sono frate no 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 comunque un tipo con la cetta con la faccia da zombie si sono io teso sono io e gli Enfield di chi è che l'ha buttato qua d'era? adesso lo spacco in due e lo mangio eh tiratemi via gli Enfield d'aventura mi ha fottuta tenda per piacere ragazzi tanto mi occupa mi occupa tutto dei cosi to per il cervello come oggi ma qua in mezzo alla foresta sai no 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 ah tu non hai visto niente della base nuova no ah 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 anna ah ma porco l***o oh i mi datelo è gorka ah grazie ok ma trovatela da sola è gorka è gorka lì è scatturato un fumogeno verde vio vio davanti al mio rossa è l'ultra leggero minchia oltra bordello eh si è ultra ma l'ultra leggero abbiamo fatto la quale vedi che ne valeva la pena arrivando anche il bilingo ragazzi lo spazio che c'è tra la torre l'epoca questo posto c'è ma l'alberto quindi non sono io per dire per la bustarella se viene e c'è 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 la perfezione non esiste di quello giro di 90 gradi sicuro giro di 90 gradi e poi leggermente no cerca di stare no cerca di stare dall'altro senso così la coda va a finire anche se non finisce no ma va bene così bello avanti per gli aspetti politici se così legno pure di tutto no 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 le cose legno tanto ci metti la scala bello c'è la porta no c'è fatto la porta ah no qui si a siti si parla e giù giù vabbè che diventa no no aspetta che si c'è troppo sballottamento e fin dietro fin dietro beppe beppe oh dove sei sto dentro ora devi andare un po' più indietro ma scopriamo c'è ok sono dietro di te non c'è la strada c'è un gps da darti no no mettete nelle casse non date nulla mette tutto nelle casse ehm ok ehm sono materiali da per costruire nelle tende verdone queste poche le tende verdone ci ho messo il filo spinato dietro dietro questa qua nella prima un pelino più forse un pelino più a sinistra no ci sei ah non lo so no 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 aspetta non lo so più a sinistra ci può buongiorno iiii più a sinistra più a sinistra chi è il cappellone che ha scontato fuori e io ho fatto ti vedi vai 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 grande 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 ok non so da che la tua scena mi sa che mi ammazzo ehm oddio no ma adesso ti metti un pallone che cazzo è ehm stanno mangiando perché non me lo fa loccare vai aspetto che finisce di girare aspetta che finisce di girare aspetta che finisce di girare ehm uno è mio che mi ha fottuto la gamba io sto tieni qua dentro io sto prendendo freddo ehm la stanno da prendere mi ero tolto tutto per andare a prendere i tipi spero che la stessi qua qualcuno mi apre ragazzi aspetta aspetta niente allora la prevenzione della casa c'è lei c'è lei c'è io c'è io c'ho due camo prego due camo vai eh sì non sparate c'è io c'ho io non sparate non sparate eh lo so scusami ce l'accetta oh uno è malato entra io entra pensate che sta tenda è piena eh ragazzi grazie so se volete venire tutti qui in cerchio diciamo una preghiera che è una preghiera benedica la casa david ti dici la casa ahahah devi si faccia a sedere ecco lo zombie se vuoi attività ragazzi enti è giusto che ciò dobbiamo farizzare eh stanno ammazzando me gli zombie io fai una foto scopi di quattro si stavano scogliati dai guardano con gli occhialini non ti è che non ho detto per più picchia non ti do io picchia non me la fa chiudere cosa la cassa mi trovo la camera guarda qua guarda qua che lavoro ragazzi completamento che spettacolo beccizzetta meraviglia anche gli aeromani non ci sono beccizzetta 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 nel vincolo armato capito ah si si con l'olio cuore ok ok no no ho un piccolo problema che non riesco a chiudere le casse giuro giuro perché lo spira la prima la prima non me la fa chiudere proprio ci te ho messo british back and back di qualcuno dentro il vincolo militare era il mio allora barrenter cosa mi pare che bella sta posizione guarda che siete eh l'imbriaco galassica eh però raga allontanati se no non riesco a chiudere sta cazzo di cazzo vedete che ti do lo zombie aspetta no ma perché mi da sto bug di merda tu qua col dire troppo torno via allontaniamoci chiesa che bello solarium qua tirato una città che hanno zombie davanti a me due metri c'era l'anvi a questo danno da ruota 17% che l'anvi? si 17% ma siete l'emerdo ho sparato lontanissimo ma porca puttana ma non ce l'ha fatta te la cosa l'accia 15% la città 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 lontana lo si è fatto ma lo sei tanto il danno il danno il danno il danno il penso quando sei vicino l'ambina cosa a due metri di distanza tu l'hai preso con la città no? non è un danno zombie vado qua a vedere vado qua fra i zombie devi ammazzare qua dentro ero qua ho capito fra ma lo sai a cosa danno a cosa danno di lambi quindi non è possibile si incerito vedere che metti i voli riesco a prendere a vedere che la costa di salta qua ti prendo vedere i zombie non li prendi ma non viene cazzata ho fatto quello della cazzata i zombie vuoi vedere che ora ti tiro la città ti prendo ok girateli schien oh 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 che se ti siano tu perchè il il quello che mi attiva mi attiva te città picchiati tra di voi ma fu supermanente ve lobe forse nel il posto che portarelo che cazzo serve io al più non ho fatto sto sparando e l'ommazzo in una direzione diversa come se te si ammazzano lo zombie e sono dietro di te mi arriva la città poi in giù vada pensare che c'è davanti a me a lunghe di distanza devi sapere che aroma è baggato 100% posso sapere che buttiamo la saponetta nella barna piccola e mandiamo qualcuno a freddo b la volta fatta tutto il purgatorio sono d o ragazzi non si è che abbiamo compagnia il momento movimento in zona polana forse zona gorka c'è gente qui vicino moltissima la portata di in mano o no se succede qualcosa di strano apriete il garage riusciamo con l'anfico il caldo la quarta cassa forse caricatori di conversione quarta quarta cazzo cazzo ma devo inventare una bella lavagna dove spiegare aspetta taxi che dovevo chiudo e resta qua no no lascia parta lascia parte l'attacco taxi ne sto facendo un altro così la facciamo uscire dal bocchettone sempre a ovest l'uscita quella lì è la quarta 2 2 ma il mi 17 che c'è qui alla barn ma no ma noi allontanati un attimo non è quella non è quella non è quella quarta è inutilizzabile ragazzo non lo so 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 scusa fuori quella è la terza non la quarta c'è ragione fatti 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 cazzo cazzo voglio metterlo qua no no ma lì non c'è soffitto dopo eh non ti fa andare mi sa di no aspetta fai improvare no ti fa ti fa andare ti fa andare eh eh ne sei sicuro dove siamo ma valentiamo perdonare nessuna provo uke il corco diavolo ha monola via live c'è una c'è una gran parte ragazzo dman qui se martin posto siamo visto m occhietto ma io no io non c'è uno armato nel bosco chi è? a sud no no io sono davanti di casa nessuno spara aspetta c'è una bomba attaccata non è nessuno? è nel capomodo ma robata me in quattro no tazzo non ho capito che ho capito un'altra parte ecco io vado facciamo facciamo aspetta vado a mettere giù aspetta vai tira il piccione ho un m16 no no sono io quello l'altro è un m l'altro è un mk mod ma svegli tu non li vedo non è dietro dagli zombie che ti era grato vieni qua ho svenuto per te no no vengo io che ne ho sdraiato che è quello sdraiato no non sono io nessuno mi sto muovendo io mi sto muovendo fallo dove cazzo è? qua davanti a noi raga grazie qua dove? si date delle indicazioni più intelligenza si 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 ok ragazzi vi io vi si 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 no 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 non scrivete niente non scrivete via troppo tardi apritemi il costo del garage che arrivo oh ragazzi dopo possiamo con più calma fare tutto il riassunto delle combinazioni perchè tipo penso che io come altra gente alcune robe che sono state messe quando non c'eravamo non c'ho un'idea tipo siamo apriti il garage devo fare uno screenshot sul mio blocco a noto e metterlo sul canale di my bros guard tutto qua guarda beppe torta dei playwood nell'industria questo è il rock che cerca di far legno e intanto fa capire ah zombie di merda adesso ammazzo qualcuno nella fredda arrivo eh c'ho due zombie di merda celebrazione throw sull'incetta che ruote servono per me la pietra che smonteranno ogni giorno la ruota la parola la parola per quanto riguarda l'anno sparato non le hanno smontato no no c'è uno spazio da dentro per me sono entrati sono qualche parte secondo me no ma per me sono entrati con qualche bug avretheno fatto saltare tutto per entrare lì dentro non ci vuole un cazzo io continuo ripeto sì ma se siamo entrati c'era una pick up proprio montata su un veicolo facciamo saltare agli altri veicoli senza problemi non ha senso che li abbiano lasciati se sono entrati oltretutto se sono entrati se ne andavano con due veicoli su tre perchè avevano la posta del garage ok chi mi apre che vengono il lambert io c'è là il freddo guarda il freddo c'è sempre uno zombie da lontano eh dove arrivi dal box qualcuno apra davanti ragazzi davanti cos'è a nord si è a nord aspetta 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 devo fare questo zombie che rimuovo questi rottami qua e fanno qualcosa se andiamo più in altri insomma vedere la stazione di fornimento diciamo sparci con la l115 aspetta c'è uno zombie non riesco però bene quanti metti i soldi ragazzi qualcuno d'anno no c'è da me i zombie puoi preparare contatemi qualcuno metti mi uccideri zambi no c'è da sparare non l'aprita con lo stronzio no no vuoi tu lì alla porta c'è da me ma che andrea facciamo se far epple quanti scrap t'ho portato brah c'è ragione anche questo quanti temberg t'ho portato ragazzi è per te la porta nel garage perchè svengo porto dietro 400 kg ma dopo tutte quelle che hai perso in questi due giorni che è quella che è quella delle ballas no non ti ho accettata ragazzi tutti in cerchio prima di mangiare facciamo ringraziamo eh eh vicino ragazzi evitate mi sto morendo faccio cina dai pranzi dai chiediti dai per questo cristiano ma che cazzo mi è deciso mi sta uccidendo mi sta uccidendo no 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 scusate bboro bboro che cazzo oh incidenti sul lavoro cazzo questo l'amore è del tato no l'avete indossato l'avete indossato il caschetto? non vedo nulla visto che posso rimanere se viene a rispettere far cura ho trovato dei modelli adesso non so sto scaricando lo zip non so che formati sarà diciamo che si è bagata sta spoltando anche da avere l'altro spalito te l'ha detto la stratosfera tanto si ferma che spettacolo ma le dimensioni cioè io se sto a spoltare con la testa non mi vedono sto parlando di un piano in terza persona io sono in terza persona accucciato contro la parete eh non stare contro la parete perché ti esce parte del corpo e ti possono beccare attraverso quindi stai sempre indietro non fare uscire l'arma eppure dobbiamo rinforzarli perché finché non è doppio legno passano i culpi quelli più pesanti ah ok invece se devo spararmi non mi metto in piedi allora tipo ti metti di lato premi alto e guardi lontano puoi anche usare il destro così non ti esce l'arma e poi con me lo di uno e rivolgi l'arma dove vuoi spararti ti su e fai P3D che ferma tu hai P3D ritorno ehm ti è giusto qualcosa? che bello terzo piano dice e ripeto anche chi K3D e chizzo un po' poi ritorno a 30 minuti allora raga ehm se siamo sotto attacco la prima cosa che dovete fare è mettere un corrugate fence davanti al cancello del garage il corrugate fence una volta che loro aprono il garage lo mettete a metà altezza voi vi sdraiate appena il garage si apre che loro proveranno ad entrare sparate le gambe e li fraggate in scioltezza altrimenti se loro vogliono entrare si devono comunque chinare a sdraillarsi per passarci di sotto voi nel frattempo li avete belli che fraggati sono assaltato ci sono entrati dentro beh almeno non abbiamo come hai fatto entrare dentro? abbiamo rubato la mia Red Bull che avevo messo nella cassaforte e quindi su destra? quanti cassaforte c'erano aperte? no nessuno cioè una però hanno preso 3-4 fucili ma c'è non l'ho messo sul loro Ural però alla fine sono morti tutti quanti due si sono uno si è fraggato contro il con la macchina all'entrata nord cercando di glicciare un altro invece è caduto dalle scale ed è morto il cecchino invece l'hanno ammazzato taxi e Mirko lo taxi spottava e Mirko a terra sotto il resto di noi anche tutti morti cioè come fate a uccidervi? però attraversi i muri o sono entrati? la gente si tirava su dai ripari no fra io l'ho detto lo ripeto di nuovo se dovete spottare sulla torre mai stare in piega in ginocchio no no in piedi ma manco in ginocchio perché spunta la testa fra orca puttana eh sai cosa? io lo dimasco qualcuno quindi nel muro nel muro quello di inarci nel attore dove stiamo sempre no 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 stavo per dire una cazzata stavo per dire una cazzata penso a frate sono morti tutti l'unico rimasto in vita ero io quindi vado su desto beh si su desto su desto vai sono rimasto dentro sentito venga io sto invece a 096 069 096 dentro la base sono entrati dentro la base dei tizi in quelli la chi è il player fuori? io 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 gli stiamo restituendo il favore sono gli stessi ma quanti erano tutti che attaccavano qui? erano i 3-4 mi hanno fallito in una maniera 096 069 in upper field si si in mezzo alla una roccia degli alberi sto così aperto? si si e questo è come il tirapiccione sulla sull'era morto interlacerale l'ha ucciso bigger l'ultimo no no è sotto a mirchetto con taxi no era lì infatti volevo mettere il coro gate fence perché se mettevo quello lì loro non potevano passare avrebbero aperto beh lo smontavano lo smontavano ho capito in tempo di smontare io stavo già chinato di sotto a spararne alle gambe vabbè abbiamo capito ciccio dopo colpo delle grand normale beppe la macchina mi hai detto te si lascia lì così così in chiusa no ma io ho detto mai 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 ho detto io ti ho detto metto la macchina fa così non enter perché sa la combinazione si si va bene va bene beppe per piacere dai non fai lo scaricabarile io l'ho proposto e tu hai detto di si guarda ti avrò detto si per non so quale non l'avrei mai pensato ma c sto oh un attimo sto rogando in base non mi sparate sto rogando qui dove stai rogando hai capito alla fine la colpa è pure la mia io che ho i mezzi non ne voglio là dentro alla fine vabbè no la macchina l'ho portata per svuotarla il problema è che io faccio 3 miliardi e mezzo di cose chi è che sta capace del negro mezzo corca che mezzo stanno girando loro non so preparo a fare fuoco si 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 urla che sta passando ah mi sa tanto che sono loro eh raga no 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 sta passando chi è che spara chi è che spara ragazzi io sto rogando in base anch'io sto rogando io ti ho fermato si è fermato si è fermato si è fermato mi sa che gli abbraccio no ah no è là ti ho tirato giù tutto se volete smontarlo ma già già niente passato eh ho provato a sparare eh ho provato a sparare che io sono in quella zona eh salita gork non lo vorrebbe fanculo io ma sono vado via raga eh perchè i due si andrò con pochi dovevamo essere in otto magari così ma è andato via sia no no si è andato via ma ho lasciato in mezzo eh controllate il garage che fossero lasciato aperto ops è uno steso vado io beh io faccio il giro da sud-est Beppe non mi spalasse ho chiuso il garage no no ok adesso ho chiuso faccio il giro comunque faccio il giro al sud-est passo vado alla collina ovest oh vado a prendere informazioni no no a sto punto vabbè che erano sull'ore eh che se sono morti tutti ci racconto user left or channel ma vieni c'è dato tu oh vieni c'è dato tu oh vieni c'è dato big subito si si fra tirari su tutti e lascia abito ma il contrario vabbè vado a mangiare io da c'è capito ok il dark in teoria è ritornato lì e sono morti tutti perchè i zombi li hanno ucciditi bello ci va bene vabbè vado a vedere nel modo più cioè vai la fa fantozzi filini all'assalto della base nemica non so se avete capito noi siamo nella base nemica fantozzi spalleri cosa fai mi dà un ingegnere vado che vuole pensi che questi tornano e si trovano tre cadaveri di tre cristiani e pensi che si sono sparati tra di loro teppe la buona voi ma hanno cecchinato di un ho cecchinato ho cecchinato un lapo di un cane ma è da dentro chi che s'ero dentro ma ti hanno cecchinato da fuori? si si da fuori mi sa che è entrato il quinto ma eri visibile si ero visibile stavo camperando uno al port sai dove ci sono via come roba c'è la base e poi c'è il porticciolo ci ho messo un SUV un mezzo armato e un camion ah comunque il lift deve funzionare perchè ti qua hanno portato il SUV sul tetto dell'edificio si 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 quello il mitragliatore non è? si ecco quello lo farei ma è tutto nel canale suo è intelligente oi ascoltate si Beppe quanto ci hanno messo soldi? e andiamo a comprarci un lift per scoprire i miei compagni poi vengo io se mi fai andare in bagno si vai fuori sono in due lift sono in due lift cazzo quella barca ma dove cazzo è finito Natmi scusate? si però forse una barca si è elaborata è preso uno lo preso è preso? ma c'è stato uno c'è stato di fianco lui però guarda sono in acqua l'elicottero è andato a puttane raga vero? sta atterrendo adesso dove? alla nostra base ok quale elicottero dici? Little Bird quello comprato? si si lo vedo davanti alla nostra base si perchè li hanno rotto il rotore ecco stanno provando ad atterrare per montare il rotore esatto mi sposta un po' oh mi hanno trasportato eh si è trasportato? si dove? non so dove cazzo sono aspetta no cosa dice ha glicciato tramite il filo hai capito? loro lo hanno detto e lui ci ha creduto ok però se scrivete in pubblica i codici eh vabbè che cazzo se la sono cercata scusa mi dicono che ho clicciato eh vabbè è interrato adesso merda via 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 cosa è successo? è esploso sono morti sono tutti morti ora ci arriva il danno e sono tutti morti erano 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 è arrivato già il danno non ora ora ti rompi le gambe troppo che ti rompe le gambe e ti prendi il danno che si è preso nonostante era spento perché era lento se mi sento mai soltelare dal nulla è esploso no è esploso non ha dato aspetta 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 un po' sarà pagato perchè danno dove di prenderlo che palle l'ho perso eh beh chi è fuori da ma ci devo passare ci va stare comunque c'era stato è stato è stato lì questo no non ha fatto danno comunque non è colpa sua non è colpa sua però chi vi ha visto compilato bene potete far anche giallo giù comunque so spero di averla frapposata di sono allenato un sacco con litte no no dai io tesa non parlo ignori ahahahah ti vedi gli strozzi tu vedo una testa spuntare sul tetto sono io come mi fai vedere sono giù taxi ti bendi no qualcuno è la testa ti bendo io ti bendo io ah già trovato ok da chi che l'ho ucciso gara che che so giù allora raga bella cioè fatto un po' di bordello user join the channel allora ok da quanto ho capito l'admin è dalla nostra parte perchè gli abbiamo dato proprio codice delle politiche i think that both sides should be fine ma c'è ragione capito c'è ragione l'admin cosa ha detto praticamente quelli cretini gli hanno detto che lui aveva glicciato dentro e lui gli ha dimostrato che c'era i codici per cui è entrato legalmente l'almin ha detto voi state zitti voi state zitti e andate venne per il fattivo a streetways si è che ti diciamo cosa ha scritto adesso l'admin scusate ha scritto che ha parlato con eh non c'è mai stato giusto detto che ha parlato con entrambi che ha parlato con loro ha detto ok we talk we die guys eh non sa l'inglese ha detto che ha parlato con loro e pensa che adesso la situazione si è risolta per entrambe le parti si tra le per il fatto che eh dopo che gli ho sputtanato i codici in cazzo gli altri mi dicevano ti amo non me ne frega un cazzo ragà non me ne frega un cazzo ma non li rimettiamo altri uomini no probabilmente adesso la domenica si monterea le porte e li metti di nuovo si può essere a tonnisi che culo una briefcase piena un l 115 con tipo 6-7 caricatori eeeh due una parete di legno da 1 terzo due pareti due pareti grandi ho 8670 gb quindi faccio un petro e muoio mi infarto il personaggio Che cazzo ne si è caricato? Vai ragazzi, ho preso il mulo La cazzaforte è aperta, ho preso tutto Cazzo, nella sfiga che sei svenuto, alla fine si è andata bene così Si è andata benissimo ragazzi, si è andata Bella giocata, bella bella È stato il bello il primo che si è avvicinato la porta, gli ho sparato dall'altra WTF Poi arriva l'altro Ma oggi è tutto Non c'è qualcuno di voi che andate a controllare i due dei veicoli sul molo E mettete il palo, ricordatevi il palo per evitare che costruiscano dentro la base Non vorrei che... Io ragazzi ho costruito dentro Perché uno che ho ammazzato aveva due pannelli Il punto qual è? Che un pannello l'ho messo a copertura della porta principale Per chi c'era quella che era la terza porta diciamo E l'ho chiusa proprio, da lì non potevano proprio entrare Però l'altra porta era aperta Io non è che gli ho impedito di entrare nella base e mi sto barricato dentro No ma a parte tutto il palo dei 30 metri si è avvicinato Non ce l'hai? E se non ce l'hai che cazzo devo fare E però scritto che aggiungeranno la regola che non potrei costruire dall'altra base Io intanto poi adesso lo faccio legittimamente E' sua eh? Parve solo benzina fra Benzina io vado da volta, dali una mano E noi... e noi due... e vi lascio la, vi lascio la Quanti siamo io e tesla? E sono le due? Ah no è di noi Cazzo di c'espuglio Penzala dove sei? Vengo lì da voi, sennò il mio solito c'espuglio lontano Sì sì vieni da noi E ragazzi l'ANV lo... E che stai aspettando? E io, io, io No eh sto arrivando ragazzi scusa tanto Ok E avete sbloccato l'ANV con la chiave No, prendo la chiave adesso E la chiave dopo rimettere in cassaforte Sì 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 La chiave... Eh me la porto dietro però No 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 No, la rimetti in cassaforte Lo apro e poi lo metti scherzo tanto se ce lo rubo in avvino si blocca Ok E lo ritroveremo, allora Allora Ok ragazzi io slobgo dentro... E' una bar netta lì Ciao 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 ragazzi, e' domani Ciao 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 Tutto me non vai Dov'è? Dov'è? No, sono morto oggi Ma hai ripresurato po' per caso? Eh io ho provato a cercare il corpo gioco Non c'era, non c'era che ho cercato, ma non c'era Vabbè, ho fatto da... Comunque te l'avete vando bollore Che credo? Sì 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 sì, no, vero un po' peccato Io Apele cancella cosa Conchilli Sì Ah, siamo tutti Questo con l'acetta chi è invece? Io Ok Ok Ci sono Ciao, c'è poca benza Tagghiamoci friend Tagghiamoci friend Allora, R e per tua moglie, abbiamo la pompa Dai, fatemi il benzina, aspetta che la porto un po' per avanti Minchia, sei tutto bianco, sei un brinanzino Oh, hanno aggiunto la nazione slip dentro le tende Ok, sai che c'è? Raga, eh... Volemmo mettere il pannello in piazzo al palo Ok Mi fate benza Facciamo dopo Facciamo dopo Facciamo dopo F damn Piazza al palape Paolo No, aspetti che vendere forno Appro Somma dai apri allora andate tutti di là c'è anche uno più leggero via vado no 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 dai sbrigatemi dai veloci chiudi chiudi arrivo ci sono ancora due persone rare eh comunque stanno scherzeggiando i posti eh l'ultimo chiudo la porta eh io bello stop mi sa che uno c'è rimasto solo un posto ragazzi ah no c'è il posto prova sono giù a giocare a dota ah ok bello mi dicono un tutorial no che c'è prendi la bici prendi la bici che bici non lo so aspetta vediamo qui se ci vogliete prendi la bici un'auto non lo so non lo so non lo so te la senti non lo so o hai presente quei quei con soluzioni anche io vedo che ci sono i tank trapper non lo so la conoscono la strada raga perchè guida sempre fra e vedi fa fa che gara no 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 io ci ho fatto gli incidenti per il giro della mia vita hai cagnato per il bosco no no sono già qua siamo ti vedi a me mi vedi a me mi vedi a me la strada il giro non faccio ti lascio vedere il giro l'interno no vai vai dentro vai dentro vai dentro vai dentro ma che ci devastano no ci smontano ci smontano ci smontano ci smontano hai roba da mangiare no 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 ma chi c'entra a noi che stiamo qua a beccare conti per niente eh ti faccio scendere ok e chi lui che cazzo al culo ma tu hai sentito la base? si adesso veniamo ad andare avanti ah potremmo mettere insieme dopo vabbè dopo ti porti anche te se vuoi no non ce l'ho già accorto di pin kill va da lei padre eh chi vi giriamo di qua o di di girare meglio stasera dobbiamo mettere meglio ok io vedo già dei cittadini dovete mettere meglio non ho capito chi vuoi dovete mettere meglio no mi metto avanti che se arriva qualcun altro ho costruito andare indietro è il nostro nostro dietro ok ok i cecchini sulle li devo far fuori? no 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 sparano corriandoli non ti preoccupare cosa vuol dire? vuol dire che li devi abbassare no ma ah quindi non aspettiamo il trap sparare c'è anche un'altra macchina eh io comincierei anche a sparare tanto bene a parte che loro già hanno vedete una granata che poi viene con me come ore si è ingresso no ragazzi si si è ingresso a sud preso tu rock sei girato? si sto camperando in cespulio c'è talos che sta sto girando recuperando altre macchine in cima le torri ce ne stanno? si no in cima in cima non li ho visti ascolta qui là accanto a quella macchina ho copreso eh poi c'era una specie con le specie di elicotteri coprite anche il blatto destro della barracks eh che pro hanno solo un post bandit outfit bello io eh ci spostiamo di canale cosa facciamo? si spostateli giù ok si spostarci te che guidando si ah anche il muro eh anche il muro anche il muro anche il kiwi eh ho il nome di andrea io eh che sposto? un galakaddi sposta galakaddi fra talos e te allora ce ne sono anche in giro ragazzi si 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 io voglio ok ne vedo voi ah cazzo sparo tutto guarda che ce ne sono 30 40 40 ah sto spandosi se vuoi come deve andare vai ok user was moved out of your channel user left your channel user left your channel perchè c'è quel nick? una volta a te user left your channel ma si hanno sghamato dai torno indietro eh non abbiamo più fra ricognitore dai non abbiamo più fra ricognitore ho sti cazzo di cespugli con davanti che mi impariscono dentro di qualunque roba E' che l'ho beccato, l'ho beccato, si Però non è morto, vaffanculo Uh, questo mi è passato a vincere Ok, terra Chi è l'MK48? Io, io L'ho vista Ditemi dove andate, cosa fate Taxi, mi fai passare un altro Merda, merda, merda Ucciso un cecchino Questo mi è arrivato vicino C'è uno che mira al centro Vediamo Ma questi legoli li avete comprati oggi voi? Solo uno Oddio, se c'è un passato vicino, cazzo Ma secondo voi sono tutti e 40? Da A me paiono tanto pochi A me paiono tanto pochi Eh, oddio, 40 non sono pochi, solo che se sei in 5 o 6 già Ma prima Qualcuno sta guardando a sinistra Dove c'è? Dove siete voi? Dove vorrò un premio? C'è un cecchino sulla destra che non riesco a vedere Dove? Dove? Sul muro Sento spari Oh, sto ingaggiando a qualche di un altro Però non lo spara qua da noi Spade, 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 sponcino Dai, io ho andato più scatto Guardiamoci anche le spalle che non hanno detto qualcun altro Ok, ok, ho messo di merda Ok, ho sposto verso Verso la, l'aereo Chiudo l'aereo Ah, eccolo la bastardo Sulla torretta No, sulla torretta verde a destra del portone Chi cazzo spara? Non sta arrivando qua ai colpi Chi c'è sulla sinistra con il DML? Io Ah Dove stai sprando? Ah, io doi No, quello con la torretta Bom, io avanzo dalla C-130 Sì Dima, se vuoi provare uno scatto felino puoi andare a correre dietro quell'hangar L'ho fatto io prima Uh, se mi è passato vicino No, no, no È di te Oh, io l'ho fatto di fuori, a me non è qui Guarda se mi spara Teniamo uno sul, sul tetto Dove? Sì, ma fai l'impavido Preso Lascio dietro La casa Ok, io sono con una specie di barracks che ci sono entrate sulla sinistra Ragazzi, ma c'è chi sul muro dove siamo entrati? No, signora, no Io sto dietro l'hangar sulla terra Oh, merda Che accade? Sinistra, uno Sul... Continuo a farlo a sparare Ragazzi, vanno giù di schiena, suppongo, siano morti, no? Sì, sì, sì Sì, io sono morti, ma non lo vedo Quindi Che è successo? Fai lo fatti Oh È caldo la base del piso Tanto stanno guardando me per adesso Ancora? C'è un corpo, raga Mi sarei anche me che stanno attaccando da qualche altra parte Perché più se no lo sparavano a noi Ok lo vedo, lo vedo uno In due abbiamo detto no? Sì ce n'è un altro C'è in base Insomma Siete tutti fuori? Chi mi riesco Il duca Ah guarda quei figli di puttana raggiù porco di Ah guarda becchiazza di strisce Mi vendo Ma sui giocatori o sono NPC? Ok ne vedo un altro Oh mi infaccia Ah Ce n'è un altro? Aspetta provo a farlo sparare ancora Guarda secondo me no No Oh no che freddo E adesso non sparano Ehm Forse è peggio Ehm No io sono a sinistra Dio 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 Io sono di fronte all'hangar che c'è quello che ha la bocca sulla entrata Quei specie finte barracks Io 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 sono in open field Sono dietro la C-130 Uh Ok Ragazzi c'è uno qua Dove? Caproia Dove? Madonna mia che colpo Eh è nascostissimo Dove sta? Uh Guardate dove mi sparano Mi ha visto Eh Vedi anche me Vedi anche me Riuscite voi a prenderlo Da dove sparano? Ditemi dove Allora hai presente L'hangar La bocca dell'hangar Dalla nostra entrata Ok Sì Allora sulla sinistra Guardando la bocca dell'hangar Sulla sinistra Uh Se lo sto prendendo Dio cristo Ne vedo un altro Dove? Ah no cazzo Sei tu in ghilli No Eh Chi è in ghilli? Si smettite il chilino un attimo Ok Sto io sto io C'ho il braccio Elicottero Nascondetevi raga Non lo faccio È diventato la C-130 L'avete ammazzato quel tipo? No 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 adesso lo uccido Quella sinistra dell'hangar Vi diamo da sopra i sacchi di sabbia Che giorno dove Ok 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 Boom Uh Uh Voi indietro Voi indietro Chi è che sta correndo? Chi è che sta correndo fuori dalla base? Morto ragazzi No Cazzo Ma ha rivellato qualcuno mentre scappava via Dov'è? Dov'è? Da dove cazzo l'ho preso Merda Ragazzi È dall'entrata Chi è? Chi? È un player o un NPC? Un NPC Ok L'hai aperto tu il garage Dov'è? Dov'è?